Il 2019 è stato un anno eccezionale per lo sport napoletano e campano grazie alle universiadi. È stata la manifestazione più grande che sia mai stata organizzata in Campania. Tante vicende politiche e sportive hanno fatto ricadere solo sul mondo sportivo e politico campano la loro organizzazione. La riuscita incredibile delle universiadi ha messo in evidenza in tutto il mondo le grandi capacità tecniche ed organizzative e le grandi competenze del nostro mondo sportivo. Però non ci dobbiamo fermare qui perché dobbiamo pensare anche al dopo universiadi. Questo è l'anno delle Olimpiadi. Le universiadi ci hanno lasciato i palazzetti ristrutturati, riammodernati, ma occorre che la politica li metta completamente a disposizione del mondo sportivo per preparare adeguatamente i nostri campioni che andranno alle Olimpiadi. Ricorderemo tante vittorie della nostra palestra, egoisticamente, con due ragazzi che sono entrati nei carabinieri, giovani. Sai, scampia molte volte il carabiniere visto come un nemico, oggi probabilmente questo non più, perché Pino Maddaloni è un poliziotto, i due ragazzi sono diventati carabinieri, Esposito Martina e Brutetti Luigi, una ragazza è entrata in finanza e questo per noi è una grande vittoria, non solo la medaglia, ma anche dare dei modelli giusti ai ragazzi dei quartieri, perché il poliziotto spesso viene visto, come dicevo prima, come un nemico. Ci auguriamo che lo sport venga messo nelle scuole, come di base, come una volta si facevano i giochi della gioventù e si potrebbero fare anche i giochi liceali e poi arrivare agli universitari prendendo più medaglie di ciò che abbiamo preso. Lo sport per me è vita, il sport è il modello di vita, credo che più sport, meno baby gang, meno bully e più spazio per i ragazzi autistici, perché all'interno di uno sport come il nostro vengono parecchi bambini semi-autistici o iperattivi. Questa patologia attraverso il judo trova qualcosa di importante, un'autorevolezza, un'autostima, è veramente un miracolo lo sport. Lo sport ti dà lontana dalla strada, lo sport ti dà personalità, lo sport ti dà anche una formazione, un giorno puoi vivere di sport. E soprattutto augurata a tutto il mondo dello sport di Napoli, e questo si sta aggiungendo anche alla provincia, un buon 2020, fatto finalmente su fatti più concreti, impianti finalmente disponibili, quindi anche aprire una riflessione, magari un tavolo che possa portarci, come dire, progressivamente a utilizzare sempre di più e meglio le nostre strutture sportive. Il bilancio è stato positivo, insomma, è chiaro, le università hanno fatto sì che Napoli svoltasse sul tema dello sport la stessa manifestazione, non fino a se stessa, ha portato già per il 2020 diversi impegni a carattere nazionale e internazionale. Questo ci fa capire quanto è stato importante per la città il mettere a posto gli impianti, cosa che difficilmente avremmo fatto noi con le nostre scarse risorse. Quindi un'opportunità della città che sta diventando finalmente un fatto concreto e che porterà un 2020 pieno di eventi sportivi, pieno di eventi internazionali, quindi proprio sulla scia dell'Università del 2019. Siamo contenti per questo e siamo contenti anche di poter continuare a camminare con il mondo dello sport che corre e che noi insomma vogliamo, non dico inseguire, ma almeno camminare al fianco.